Oggi in giunta abbiamo deciso per l'adesione alla Redi, la rete delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Come amministrazione è un messaggio importante che vogliamo lanciare in tema di diritti e di coesione sociale, oltre che nel concreto ci permetterà di avere accesso alle buone prassi degli altri partner della rete e ottenere supporto per la realizzazione di progetti e azioni concrete in campo di promozione di diritti delle persone LGBTQI+. Siamo felici di poter nuovamente aderire alla carta di intenti della Redi, perché l'amministrazione di Udine aveva già aderito alla rete nel 2013 e poi con l'amministrazione Fontanini invece ne era uscita. Noi crediamo che sia importante poter collaborare con le pubbliche amministrazioni di tutto il territorio nazionale sul tema.